Ricorre oggi il sesto anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano. Il 18 gennaio 2017 una valanga di ghiaccio e detriti travolse e distrusse l'albergo, uccidendo 29 persone. Solo 11 sopravvissuti. A sei anni dal triste evento resta il dolore e soprattutto la rabbia per le responsabilità non ancora stabilite, per negligenze che sono state determinanti per le conseguenze tragiche della valanga. L'anniversario cade anche nel momento in cui presso il Tribunale di Pescara è in corso il processo con le arringhe difensive degli avvocati degli imputati.